Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 4 novembre. A rete, le stelle vi suggeriscono di dedicare una parte di questa giornata all'espressione creativa dando libero sfogo al vostro talento artistico. Tirate fuori quel sogno che custodite gelosemente nel cassetto, chissà se non diventi realtà. Toro, il lunedì non vi trova dell'umore giusto ed è attraversato da sensazioni e influssi che non si adattano alla vostra natura. Guardate al futuro con serenità ed ottimismo, alcune situazioni stanno per cambiare in meglio. Gemelli, anche se le proposte dei vostri collaboratori vi sembrano piuttosto conformiste, considerate che sono comunque dettate dal buon senso. Sappiate moderare le vostre reazioni, le idee chiare devono in ogni caso fare conti con la realtà. Cancro, in ambito professionale lucidità e organizzazione sono con voi. Individuato l'obiettivo riuscirete a portarlo avanti fino in fondo. Ottima la vita sociale, vi sentirete a vostro agio insieme agli altri in qualsiasi situazione. Leone, il quadrato della luna segna una battuta d'arresto sulla strada dell'indipendenza, della capacità di gestirsi senza domandare niente a nessuno. Per oggi quindi dovrete puntare sulla collaborazione e sul confronto se vorrete ottenere qualcosa. Vergine, la luna in transito armonico segnala una giornata dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno i soliti problemi ma anche i piccoli successi. Vi inserirete in nuove attività, curerete a dovere gli affari e nel tempo libero saprete divertirvi. Bilancia, se avete in programma un'importante trattativa d'affari, portate con voi il sorriso più smaiante e lasciate a casa le insicurezze. Un'occasione fortunata va accolta al volo, domani potrebbe essere già troppo tardi. Scorpione, giornata piacevolissima grazie alle amorevoli cure della luna che oggi sembra riuscire nel suo intento di infondervi serenità ed ottimismo. Un desiderio di pace risuona dentro di voi, tanto da abbandonare le armi e da rendervi all'amore. Sagittario, meglio non lasciare il certo per l'incerto in questo momento. Non avete energie sufficienti né disponibilità economiche da investire. State lontani da facili entusiasmi, prima di lanciarvi in una nuova impresa fate bene i vostri conti. Capricorno, in ambito professionale vorrete essere voi a condurre il gioco, ma lo farete con una tale naturalezza che riuscirete a convincere chiunque. La serata sarà allietata da buone notizie e dalla visita di un amico che non vedevate da tempo. Acquario, per scacciare il malumore provocato dalla luna dedicate un po' di tempo ad attività rilassanti, come una passeggiata al parco o un buon libro. Potete anche contare sul solito vecchio gruppo di amici pronti ad escogitare un piano consolatorio. Pesci, la giornata è resa speciale dal trigono d'acqua luna giove, un piacevole senso di benessere invade le ore regalandovi delizie. Voglia di condivisione, tutti i valori della vostra natura emotiva e appassionata risultano potenziati.